Facciamo i nostri migliori auguri a Mario Draghi che si vede in questi minuti con il Presidente della Repubblica e la cui chiamata da parte di Mattarella è stata almeno per me un atto di liberazione che ha posto termine ad un balletto che aveva finito per assumere caratteristiche e che imbarazzanti per un Paese serio. Gli facciamo i migliori auguri di buon lavoro e di conclusione di un impegno che non sarà facile e non è scontato. Ci auguriamo che prevalga davvero il senso di responsabilità nel Parlamento italiano. E dunque abbiamo fiducia che con Draghi possa ripartire il lavoro di definizione del Recovery Plan che è ancora a mezz'aria. Nell'ambito di quel piano sono previste risorse importanti per l'ambiente, per le infrastrutture, per la digitalizzazione, per il risparmio energetico.